Buonasera, questa sera ho deciso di fare questo video strano mentre ritorno a casa e ci tengo a dire che sono in totale sicurezza, il telefono è su un trip trappiede appoggiato alla mia spalla quindi io non sto guardando il cellulare ma sto guardando la strada e niente ho pensato potesse essere rilassante con i miei amici quando li un po' di tempo qua quando li riportavo a casa dicevano che io avessi una guida molto fluida, molto rilassante e quindi ho pensato sì è vero un momento rilassante quello mentre si torna a casa, immaginare il letto, la lenzuola, le coperte e però anche il caldino della macchina soprattutto adesso qui da me dove abito io che ci sono 17 gradi no? E tra poco arriverà novembre e ce ne saranno ancora meno e avete presente accendere il riscaldamento, aspettare quei 5-10 minuti e poi farti un quarto d'ora, venti minuti, trenta minuti per tornare a casa, magari come adesso che è notte inoltrata che sono quasi le due del mattino non c'è nessuno, nessuno di strada, ci sei solo tu e la tua macchina, qualche altra macchina che ogni tanto spunte e forse non ci sono più nemmeno i tuoi pensieri perché anche quelli a un certo punto se ne vanno no? E quindi volevo lasciarvi con la strada che diventa quasi una compagna di viaggio come in un grande romanzo di Jack Kerouac, il rumore della macchina, niente di più, torniamo a casa, andiamo a dormire. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Guardate che buio che è questo tratto di strada, siamo a ridosso di due paesi un ma su una super strada che passa nelle campagne. e adesso si ritorna. ci sei solo tu, la strada è la tua macchina. tutto alto. pensate a quante persone sono passate... da dove adesso stiamo passando noi, nelle 24 ore appena passate. ci sei solo tu, la strada è la tua macchina. la strada è la tua macchina. ci sei solo tu, la strada è la tua macchina. ci sei solo tu, la strada è la tua macchina. ci sei solo tu, la strada è la tua macchina. ci sei solo tu, la strada è la tua macchina. io ormai sono quasi a casa, quindi direi che passo ai saluti finali di questo video. spero vi sia piaciuto, spero possa avervi rilassato e nel caso vivesse rilassato lo riproporrò qui su questo canale che sta piano 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 prendendo forma in tanti modi diversi, non solo ASMR e vi auguro una buonanotte. spero che questo sabato sia stato quel sabato. spero possiate essere grati di quello che avete vissuto e qualora non lo foste state vivendo la vostra vita e nei prossimi sabati che verranno qualcosa di buono per la legge dei grandi numeri arriverà. grazie